Settimane di attività sulla prevenzione svolta dai volontari della protezione civile di Battipaglia negli istituti scolastici ed, in particolare, sul rischio sismico nella settimana della ricorrenza del terremoto 23 novembre 1980. Sono state svolte in particolare attività di prevenzione con prove pratiche di evacuazione degli alunni dagli istituti scolastici a seguito di evento sismico alla presenza dei volontari della protezione civile battipagliese. Grazie